Amici sportivi bentornati alla C-Sport, come promesso abbiamo davvero tante notizie da raccontarvi. Partiamo dalla mazzata ricevuta dalla regina dopo la notizia diramata nella tarda serata di ieri dalla FIGC. Tutti i giocatori delle formazioni che non sono riusciti a produrre l'iscrizione in Lega nei termini prestabiliti sono da considerarsi svincolati. Una condizione che sbarra la strada già in salita del club Amaranto verso il professionismo. Non resta quindi che puntare tutto sulla Serie D. Per la regina torna tremendamente in salita la strada che porta la Lega Pro. A complicare i piani, dalla nuova accordata di imprenditori decisi a tentare una disperata rincorsa alla terza serie, un breve comunicato della FIGC in cui si dichiarano svincolati tutti i giocatori delle società non iscritte nei termini prestabiliti. Una vera e propria ammazzata per Mimmo Pratico e Soci. L'operazione Recupero, che sta vedendo impegnato l'ex numero uno del CONI Calabria, si svuota di fatto di una componente fondamentale per dare forza al progetto sportivo legato alla riammissione. Perdere l'intero patrimonio tecnico rende praticamente impossibile l'iscrizione nell'ex Serie C. Ecco perché sembra ormai quasi scontato che arriva allo stretto, si passi al piano B, anzi D, come massimo torneo dilettanti. L'unica strada percorribile senza un parco giocatore su cui fare affidamento in campo e soprattutto in termini di rientri economici. Hanno già abbandonato la Calabria, infatti, a 0 euro. Il centrocampista Rizzo, volato a Perugia e l'attaccante Viola, ha casatosi al Foggia. Via via, tutti i pezzi pregiati della rosa faranno lo stesso e allora non resta che attendere gli sviluppi. Nelle prossime ore dovrebbero essere definiti i dettagli. Si punta a costituire una nuova società, al vertice della quale dovrebbe esserci lo stesso pratico, per poi richiedere, su impulso del sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, la missione in Serie D. E nel frattempo salutano il massimo torneo dilettanti altri due club reggini, l'Inter Reggio e la Gioiese. Da una squadra come la regina che spera, almeno, di rientrare in Serie D, ad altri due club reggini, come l'Inter Reggio e la Gioiese, che dicono addio al massimo torneo dilettanti. E la triste storia delle ultime ore legata ai due sodalizi calabresi, rientrati in extremis lo scorso 10 luglio, data entro la quale le affiliati in D avrebbero dovuto richiedere la missione al prossimo torneo, ma non in regola con i pagamenti delle somme da versare entro le ore 17 di ieri. Entrambe le società non sono riuscite a reperire i soldi necessari all'iscrizione. Sarà la Covisod, constatata l'insufficienza della documentazione, a ratificare ufficialmente l'esclusione delle due compagini dal massimo torneo dilettanti. Ci ha sperato fino alla fine il patron viola Rombolà. A poche ore dal gong, imposto dalla federazione, il presidente della Gioiese aveva ricevuto il sostegno di Gian Cesare Muscolino, imprenditore e proprietario della squadra di basket viola Reggio Calabria, ma evidentemente non è bastato. Lasciamo il calcio per parlare di pallavolo di Ramati, calendari di Serie A. In A2 sarà esordio casalingo per la Tonocalipo Calabria, gelorossi opposti alla Laziale Civita Castellana. Prima trasferta ancora contro una Laziale, il Tuscania. Allacciate le cinture, la Tonocalipo Calabria, targata 2015-2016, è pronta a decollare. C'è la squadra e da qualche ora c'è anche il percorso. Stilati i calendari ufficiali di Serie A. Tra i cadetti sarà esordio casalingo per la formazione di coach Mastrangelo. I gelorossi taglieranno il nastro del nuovo torneo il prossimo 25 ottobre, tra le mura amiche del Pala Valencia. Non accadeva dall'ultima stagione in Serie A1, quando la Callipo ospitò e abbatté il Verona. Avversaria di turno, la neopromossa Laziale, Globo, Scarabeo, Civita, Castellana. Una formazione che ha da poco ufficializzato l'ingaggio del regista ex Roma, Adriano Paolucci, già vincitore di uno storico scudetto nella capitale. Parlerà Laziale anche la prima avversaria in trasferta dei tonni vibonesi, il primo di novembre, sul Mondoflex del Tuscania. Quattro, i turni infrasettimanali previsti. Il primo, il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. Il secondo, mercoledì, 16 dicembre. Poi altro turno infrasettimanale classico, nel giorno dell'Epifania, quando andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno. Tonno Callipo Calabria, che durante la presentazione del nuovo torneo è stata premiata come vincitrice dell'ultima Coppa Italia. Un trofeo che i gelorossi proveranno a difendere nell'edizione 2016. L'ufficializzazione dei calendari di Serie A è stata anche l'occasione buona per premiare le eccellenze dell'ultima stagione. Tra queste è la Tonno Callipo Calabria, premiata sul palco della Sala Celimonia dell'hotel Center Grosse di Bentivoglio per la vittoria della Coppa Italia di A2 lo scorso febbraio. Una data storica che ha riportato a vivo il trofeo tricolore dopo 12 anni. A capitolare sotto i colpi di Forni e Compagni, la sbarazzina Potenza Picena dopo una battaglia durata a quasi due ore e mezzo. Una sfida chiusa al T-Break, come nel 2003, a Gioia del Colle, contro la Raffaele Lamezia. Una Coppa che la Callipo proverà a difendere nell'edizione 2016 a partire dalla Final Eight in programma il 20 gennaio. Sette giorni dopo si disputeranno le semifinali, mentre il 7 febbraio sarà la volta della finalissima. A premiare il direttore sportivo giallorosso Chico Prestinenzi è stato l'amministratore delegato della Lega Volley Massimo Righi. Bene così, con questo è davvero tutto. Grazie per averci preferito. A voi tutti un buon proseguimento. D'Alessio, buon passo. Grazie per aver guardato il video.